Una notizia molto positiva, era molto aspettata dalla comunità, dall'attività economica, dai cittadini, si poteva evitare francamente perché eravamo lì con i contagi più o meno quelli. Quindi ho avuto modo di spiegare che questa è un'area omogenea su cui ricade tutto su Vallefoglia, in conto che tu fai i conti su 50.000 abitanti, in conto che lo fai su 15.000. Chiaro che sballa tutti i parametri, la norma prevede un quadro provinciale operare omogenee, però è andata così. Adesso bisogna continuare a restare attenti perché come si è visto in Sardegna si può passare dalla zona bianca alla zona rossa, ma poi soprattutto bisogna fare tutti i vaccini. Francamente sono un po' preoccupato perché vedo che non vanno avanti con i vaccini, invece bisogna fare tutti i vaccini per toglierci di mezzo a questo Covid e ritornare alla vita normale, alle attività economiche e produttive, alla scuola, alle attività commerciali. Questa è un'area commerciale molto importante che vengono a lavorare per tutte le attività economiche, nei supermercati, negli esercizi commerciali. E' chiaro che portano benessere e ricchezza, ma in questi casi portano anche infezioni. A proposito di vaccini, continua la sua richiesta di un punto vaccini alla mensa, all'ex mensa di Talacchio. Come procede la situazione? Nell'interlocuzione col Presidente della Giunta regionale e con l'assessore, non solo siamo riusciti a ritornare in zona gialla, ma anche aver la disponibilità per fare un punto vaccini. Il problema è che non ci sono i vaccini e poi ci devono essere i medici che fanno i vaccini. Quindi stiamo lavorando per fare in modo che ci siano i vaccini e stiamo cercando di ragionare con i medici di medicina generale perché ci sia la disponibilità a fare nei loro ambulatori, ma in questo caso nella zona di Talacchio che si presta benissimo per fare i vaccini per tutti evitando gli spostamenti su Pesaro.